Siamo qui con Luca Cepitelli, uno dei volti nuovi del Parma. Luca, benvenuto, anche se ormai il ritiro è iniziato da un po', si fatica, però insomma ormai il ritiro procede. Siamo ormai a una settimana dall'inizio, adesso arrivano anche le prime partitelle, c'è un po' di voglia anche di giocare, di mettersi in mostra, anche di farsi conoscere i tifosi e poi ti chiedo a che punto siete insomma dalla preparazione e come sono stati i primi carichi di lavoro. No, ma stiamo lavorando bene, lavorando sodo, ma come è giusto che sia. Sono ancora i primi giorni, è passata solamente una settimana, come dici tu, c'è tanta voglia di entrare sul campo, cominciare a fare qualche partita un pochino più seria, chiamiamola così, però bisogna stare tranquilli e pensare soprattutto ora di ritornare in forma perché quella è la cosa che ci serve al momento. Parma ha creduto molto in te, torni dopo un'eccellente stagione in Serie B con il Bari, quindi anche Antonio Cassano quando arriverà sicuramente ti farei complimenti, sei un grande tifoso del Bari. Che stagione è stata quella l'anno scorso, quanto sei cresciuto e insomma che emozione c'è adesso nell'indossare la maglia del Parma e soprattutto confrontarti con la Serie A? No, l'anno scorso è sicuramente stata una stagione bella sia a livello di squadra che a livello personale. Ora sono felicissimo di essere qui, era il mio obiettivo quello di fare un'ottima stagione l'anno scorso proprio per arrivare qua nel miglior modo possibile e ora qua devo giocarmi le mie carte per ritagliarmi un posto. Sono tranquillo, devo lavorare bene, ma i presupposti spero ci siano. Ecco, un Parma quest'anno, l'ha detto spesso anche mister Donadoni, nel quale serve gente che ha fame, che ha voglia. Tu ne hai tante, immagino, e come è stato l'impatto dei primi giorni anche con il gruppo, se magari c'è anche qualche ragazzo che già conoscevi o con il quale magari è stretto un rapporto più stretto. Già conoscevo, c'era Ristoschi, abbiamo giocato insieme appunto a Bari. No, comunque il gruppo è veramente fantastico, tutti i ragazzi veramente seri, lavorano tutti in maniera seria e comunque tranquilli, di compagnia, quindi mi sono trovato subito bene. L'ambiente penso che è quello giusto per fare bene. Motivazioni a mille, hai fame insomma, che è un po' il refrendi questo inizio di ritiro, cioè è l'occasione che aspettavi da tanto tempo. Sì, ovviamente neanche a chiederlo, ovvio che ho una voglia, una voglia matta di far bene perché è la mia occasione, quella che appunto aspettavo da tempo, quindi devo sfruttarla al meglio. Senti, Ristoschi ha fatto il gol con Latina, però che vi ha obbligato a uscire dalla semifinale, non mi ricordo male, nell'andata gli hai tirato l'orecchio, cioè gli hai detto qualcosa. Sì, sì, io l'ho detto, gli ho detto, potete farne a meno di fare quel gol, se non serviva. No, vabbè, ovviamente è stato bravo lui, bravo lui, peccato perché siamo usciti con due pareggi, quindi potevamo anche meritare qualcosa di più, ma pazienza è andata così, ora bisogna chiudere quel capitolo e aprire un altro. Difensore centrale, puoi giocare sia una difesa 3, sia 4, comunque le caratteristiche sono quelle, insomma, centro, centro-destra, però tu sei un difensore centrale puro, insomma, se vuoi spiegare anche ai tifosi del Parma che ancora non ti conoscono quali sono le tue caratteristiche, la stazza e il fisico c'è, anche se adesso sei seduto, possiamo garantire sul resto, insomma, che tipo di difensore sei e se magari c'è un giocatore della Serie A a cui ti ispiri o a cui credi di somigliare un po' come caratteristiche. No, no, sono un difensore, come detto, centrale, ho giocato anche qualche volta a destra, però credo che il mio ruolo naturale sia quello di centrale, poi sia una difesa 3 che una difesa 4, e difensore di cui mi ispiro io ho sempre detto onesta perché è stato uno dei più grandi, è ovvio che paragonarsi a lui è impossibile, però insomma, ho sempre cercato di rubare i più cose possibili. Bene, allora Luca, come a tutti i nuovi acquisti ti chiedo di fare un saluto alle nostre telecamere, adesso ti vedremo nei prossimi giorni anche nell'amichievoli in campo, però adesso ti chiedo di fare un saluto a tutti i fosi del Parma che ti stanno aspettando e sei sicuramente, non è piageria, tra i nuovi volti, uno di quelli più attesi, anche perché la società ha sempre parlato molto bene di te, lo stesso amministratore delegato Leonardo aveva detto dopo le comproprietà che tu eri uno di quei giocatori che non venivano qui a Collecchio, insomma, per farsi vedere, a me era già una sicurezza. Fai un saluto adesso, ti ho fatto uno spot elettorale. No, no, faccio un grande saluto a tutti i tifosi, insomma, quindi speriamo in una grande annata di gioire il più possibile insieme.